Trasferta complicata, partita complicata come lo sono tutti in questo campionato, in questo girone. È chiaro che il momento nostro non è felicissimo, abbiamo bisogno di dare delle risposte importanti per noi stessi, lo dico sempre questo. Dovremmo essere più bravi degli episodi, perché poi ultimamente secondo me siamo stati abbastanza sfortunati, ma non mi piace mai parlare di sfortuna. In questo caso non dovremo avere alibi, dovremo essere questa volta nettamente più bravi, soprattutto più bravi dell'episodio. Andarci sopra con l'atteggiamento, con la volontà e anche con la prestazione, perché poi se penso all'ultima partita c'è stata anche la prestazione, non è bastato. Vuol dire che non basta e dobbiamo crescere, dobbiamo essere ancora più bravi dell'ultima partita casalinga cercando di tornare a fare punti perché ne abbiamo assoluto bisogno. Per quanto riguarda le condizioni di Teio, è un giocatore che abbiamo gestito in settimana e per oggi è rientrato e sarà a disposizione, cosa che purtroppo non vale per Taranova, che non sarà della partita. Ma che sia stata una settimana complicata, soprattutto nei primi giorni, è ovvio perché comunque perdere un derby fa male, perdere un derby come l'abbiamo perso noi lo fa ancora di più. E quindi sicuramente ripartire cercando di avere entusiasmo non è stata una passeggiata e quindi abbiamo cercato di mettercelo alle spalle, però obiettivamente non è qualcosa di così facile da fare. E' chiaro che poi più ti avvicini alla partita, più per fortuna le scorie passano, inizi a pensare all'avversario che ti arriva, che è un avversario complicato come dicevamo prima. E a quel punto provi per quanto possibile a mettere da parte la negatività della scorsa partita, che purtroppo dobbiamo levarci di dosso il prima possibile e speriamo già la lunedì sera. Per quanto riguarda il colloquio con il presidente, che è tanto qualcosa di risaputo, quindi nulla di riservato, è stata una chiacchierata. Un punto è la situazione, un punto importante, non legato tanto alla partita del derby per quanto poi fossimo a caldo e quindi un po' di emotività era fisiologico ci fosse. Però è stato un po' il punto su quello che abbiamo fatto, un po' il punto della situazione dove lui ha mosso le sue perplessità, le sue criticità rispetto a certe situazioni di gestione, come è giusto che sia, perché poi è il proprietario, il primo tifoso di questa squadra. E ci ha chiesto un po' la situazione da parte mia e da parte del direttore, come vedevamo non tanto il passato quanto le prospettive di questa squadra. Noi abbiamo argomentato, io per quanto mi riguarda sulla parte tecnica, abbiamo cercato di dare le giuste motivazioni, cercando di non trovare alibi, sapendo che, come ho detto a lui, credo che questa squadra abbia l'obbligo di lottare ogni partita e lo faremo, come abbiamo fatto, credo praticamente sempre, a parte qualche rara occasione, lo faremo anche nelle prossime. Quindi c'è massima voglia di dare delle risposte a lui, a noi stessi, al pubblico, che si merita ben altro delle ultime sconfitte.